La situazione dei contagi all'Aquila non è preoccupante, si è raggiunta anche un'ottima percentuale di vaccinati, ci sono però dei cluster familiari di persone rientrate dalle loro terre di origine e residenti all'Aquila, soprattutto persone provenienti dall'est Europa, i cosiddetti contagi di rientro ed è proprio questa l'identikit dei contagiati, ragazzi tornati dalle vacanze nelle isole e soprattutto stranieri rientrati in città dopo l'estate nel loro paese, persone non vaccinate prevalentemente come il caso della famiglia Macedone ricoverata al San Salvatore, gente che proviene da paesi dove la campagna vaccinale non è come in Italia ma che possono tranquillamente vaccinarsi in Italia con il tesserino sanitario. La situazione all'Aquila, anzi direi nell'Alza Vezzano sul Monal Aquila è sotto controllo ed è costantemente monitorata, i contagi che abbiamo avuto sono prevalentemente di persone di rientro da stati esteri, lavoratori che sono andati in vacanza oppure di ritorno di nostri cittadini che sono stati in vacanza ma su tutti quanti diciamo quelli che sono i positivi vengono prontamente individuati e non ci sono quindi delle situazioni che ci preoccupano. Prevalentemente nell'ospedale sono giunte persone in ricovero non vaccinate e purtroppo abbiamo avuto anche un decesso, sono persone comunque che purtroppo non siamo riusciti a far vaccinare oppure non hanno avuto il tempo. Il discorso è questo, noi rivolgiamo sempre l'appello a tutte le persone ad affrettarsi a vaccinarsi. Abbiamo raggiunto una percentuale molto elevata ma vogliamo raggiungere una percentuale ancora più elevata per mettere in sicurezza quella che è la vita dei cittadini e riprendere l'anno scolastico con tranquillità senza più dad. In tutto questo da un po' di tempo in ospedale è stata riaperta anche la reanimazione al G8 per avere più posti a disposizione perché purtroppo si prevede un aumento dei casi in autunno e inverno. Intanto l'Asda 1 ha inviato al personale delle mail di sollecito perché non si è ancora vaccinato ma il presidente dell'ordine dei medici Maurizio Orto fa sapere che nella Asda dell'Aquila non si ha notizia di medici non vaccinati.